Musica Avete bisogno di crediti per FIFA 18? Footloot.com Passate nel link in descrizione Bene a tutti ragazzi, ben ritornati alla vostra gioca Siamo tornati signori di nuovo sul Rotoricio One & Coop sempre con il nostro amico Sodin Signori, siamo prontissimi Intanto vi ringraziamo per il supporto dei video Quindi mi raccomando ancora un bel like immediatamente Signori, oggi abbiamo Ovvio, ovvio, ovvio Trovate il link in descrizione Signori, abbiamo visto un po' di Diciamo squadre che avete votato In Paris che hanno detto la Juventus e cose varie Ma abbiamo pensato io e Sodin Visto che alcuni hanno detto anche il Liverpool Vogliamo cambiare un po' tra italiana E ogni tanto qualche squadra un po' straniera Quindi facciamo un po' e un po' Sempre per non fare troppe italiane O troppe sagnate tutte insieme Io vi lascio qua sopra adesso il sondaggio Sulle squadre da scegliere per il prossimo episodio Che sono sempre quelle che voi avete scelto Nei scorsi video Quelle più potate Ve le metto qui La squadra che avrà più voti La utilizzeremo nei prossimi appuntamenti Probabilmente Troverete Con la stessa squadra Ci faremo sempre almeno un paio di partite Sodin Che dici? A voglia, a voglia Anche un attimino a cercarci un po' di confidenza Esatto Quindi ci faremo quelle due Massimo tre partite Con la stessa squadra A meno che poi Come è successo con la Roma Che abbiamo fatto cagare con tutte le partite E l'abbiamo tolta Quindi poi vediamo come andrà Signori mi raccomando Un bel like Siamo pronti ad iniziare E quindi in attesa dell'amico Sodin Prego poi far partire Tutto quanto Ci siamo E vediamo un attimo Chi cacchio tramo conto Secondo me Real Madrid O Barcellona Sì me le sento scontate Sì sì E vediamo il nostro primo avversario Attenzione Arsenal Arsenal Meco Commeri direi Ce l'hanno ammazzato uno La metto in mezzo Oh attenzione Ma Mai visto Madonna se t'ho visto Madonna se t'ho visto Bene Grande assist La parte di salata signori 1-0 Eccolo qua Eccolo qua Subito Bello 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 Ci sta Fuori gioco No Fuori gioco Orca troia Bravo Ok E' successo Mamma mia Che paura Madonna mia No 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 vabbè Troppo in picci Madonna mia Accogliendo lo stomaco No Rimango al 100 Rimango al 100 Ah Mamma mia Ce l'hai ancora Me la rischio Ho detto io Ma la devo rischiare qua Se no prendiamo il gol Van Dijk è fortissimo Però perché io premo Io premo A E non la passano Perché 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 No 10 Ma dai È rimasto fermo in porta Ma che è successo Ma io abbiamo detto di uscire Perché anche io sto premendo Y Per farmi uscire il portiere No ma dai Guarda Ma io ho attraversato il ginocchio Si è fatto pure Fa la busta Capito No ma Ma sa la Uh Te l'ho in mezzo Non l'ha passata Fai Fai Cia Cavolo Dovebbe essere calcio d'angolo però Ti parti sto sotto No ma perché Ma dai Ma come si fa a giocare così Quando lasciano così le palle Quando le lasciano così le palle Ma non è che è così lento Mamma mia Dai ma noi Ma ripallo a noi o no però eh Ripallo giusto almeno eh Ma ne Oh Non c'è credo Ma poi hai visto La cosa bella Io e te Ma ne I zitti Capito col piccolo Che dice Oddio non respiro più Più bravi Che siamo più forti Siamo più forti Guardami sopra No lì Ma dove è andata È da denuncia lì Vai 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 Ecco sotto Firmin Oh tira Tira No Ormai c'era il passaggio per te Era rimasto il tasto impresso del passaggio Non so L'iuscire a levagli Era il tasto impresso della mamma Do in mezzo eh Ma che cross di merda Madonna Ma uccidi Manco for Madonna Che giella raga Vado in mezzo eh Non puoi sbagliare No Non c'è credo Non c'è credo raga Che cazzo ha parato qui c'è Dai Ma questa è merda Cioè guarda Cioè questa è proprio merda Col ginocchio Stacca Van Dijk Che se no non torna in difesa No No Io rimango in credulo eh No Cioè io rimango in credulo raga All'ottantatresimo Mi dite cosa è successo qui Ma poi dicono che uno a FIFA non ci vuole più giocare no Cioè ma dai Ma che c'è Ciao Una Una C'è Ciao Che sei scelta Cioè No ragazzi Rimango veramente in credulo guarda Dopo sta cosa Dopo sta cosa Non lo so Non lo so Veramente Qua rimani un po' schifato sinceramente Ma questo gioco c'ha una componente random Che proprio Guarda guarda Ma si vai Nella vita perché Cioè non è possibile Che il suo portiere è Gesù Poi loro fanno un'azione a caso Roba che Ma neanche l'azione Perché l'azione gliela crea L'azione gliela creata al gioco L'azione gliela creata al gioco Ma che sono sti passaggi Dai Dai Ripartiamo Veloce No Lo gioco di merda No ragazzi Fino alla fine Che sconfitta ingiusta ragazzi Che sconfitta ingiusta No vabbè Folia 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 15 9 5 4 15 9 Raga Le statistiche parlano chiaro qui Quello con 4 tini in porta Di cui un'azione che il gioco gli ha creato da sola In automatico Complimenti FIFA Complimenti FIFA Se l'hai messo in culo un'altra volta No raga capisco tutto ma così veramente no raga Dai Capisco tutto Non c'è se può credere Ma dai 15 15 9 quelli 4 Ma vabbè Non vabbè Abbiamo perso Va bene Sono poi La gente Ci ha veramente Sempre Ma cazzo Che non ci avete l'occhi Ma infatti no Ma veramente Che coraggio Uno dice che ci lamentiamo Grazie che ce lamentiamo Chi è che non se lamenterebbe La Ma no Va bene Un pa Pure il Papa Se lamenterebbe La Sì ma impregherebbe Impregherebbe anche il Papa Lì in quei casi Secondo me Assurdo Abbiamo giocato una partita Bellissima Giusta No Bella partita L'uno a uno ci stava Di nuovo Oddio se sono loro Codo Te lo dico subito Che sono loro Vediamo un po' Te lo dico subito Che sono loro Appena piano palla Vediamo il nome Te lo dico subito Che sono loro E' stato in mezzo E' stato in mezzo Rampage 13 Oddio se l'altro è già No Non sono loro Non sono loro No Uno si chiamava tipo con la D Sì tipo James Gone Qualcosa Eccolo Eh dai Eh dai E iniziamo Cioè iniziamo Anche prima abbiamo iniziato Esatto Anche prima Però qua Bella azione Eh Ci mancava pure Che questa Questa non entrava No vabbè No ma comunque Cioè sto notando Più qui su stagioni Che su foot Il Driven E' proprio imprendibile No il Driven Shot E' Ormai è illegale Ogni anno Che FIFA mettono Mettono qualcosa Che è tipo Guarda se uno Se uno sa fare Il Driven Shot Un minimo Un minimo E' gol sicuro 100% No ma basta che ti angoli Un po' e incroci Sì sì E' gol sicuro 100% E' come quando ti ricordi C'era su FIFA Che tu Scavalcavi il portiere Andando in corsa Sì E' uguale Ti ricordi Che era FIFA 16 FIFA 16 16 eh Sì Che tu andavi dritto Scavalcavi il portiere Gol C'è qualcosa Ma pare che lo fanno apposta Comunque Uh Te la ridò sotto Bello No no che mozzarella Sala Sala Le mozzarella Le devi lasciare perde Vai 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 Ci sta Ci sta Una stecca Ma va bene Va bene Va bene Non si sa come ha fatto con lui Prima Eh esatto Oh 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 Attenzione Firminio Porca tua Mi sfiga Mi hai rotto il palo Gliela hai veramente piegato Mi sto sto rapponendo Eccomi Questa Questa Era contro di noi Era attraverso E gli davano sei gol Neanche uno Gli ne davano sei Contropiede dopo il nostro quasi gol È uguale a prima Non ci credo Non ci credo Raga Non ci credo Eh questo è golpe forse Non puoi sbagliare Eh cazzo Non lo so Ha una certa Porco giuda C'è stava dentro la porta C'è mancato un pelo Che c'è che la prendesse Comunque Sì no Sul serio Io infatti Ho crossato subito Perché ho detto L'ho visto L'ho solo Ho detto vai Uh bello 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 Ok Vai Poco tranquillo Eccoli che quittano Sei rimasto un po' Con l'ansietta lì Eh Ma lo sai perché Ero indeciso Di fargli uno skill goal Di un fancy shot O qualcosa Ho detto Ho vado un tiro normale Ho detto andiamo con un tiro normale Sì ho detto Andiamo con il classico di raggiro Senza fare driven shot Andiamo con il classico di raggiro Comunque Quitta il nostro avversario Siamo tornati a vincere Sì È incredibile sta cosa Mi sono quasi commosso Ti dico la verità Madonna Dopo tre sconfitte di fila Sì abbiamo tre sconfitte C'è regà assurdo Nella quarta divisione Tre sconfitte È mai successa una cosa del genere Però due sono state proprio rubate Sì assolutamente Quella dell'altro episodio E quella di oggi C'è assurdo La trade proprio Quella di oggi Il pareggio pure era Era rubato Sì no no ma fatti No no raga Comunque Allora Nella prossima partita Se la vinciamo Ovviamente ci confermiamo In divisione 4 Ma noi raga Dobbiamo vincere il titolo Non ci frega un cazzo Di confermare No bisogna andare avanti Signori Allora anche la prossima partita Sarà con il Liverpool Quindi per oggi È tutto Due partite Una con un riguit L'altra addirittura Con una sconfitta Così vabbè Io signori Ringrazio sempre Sodin Grazie a te Ringrazio a voi Per aver visto questo video Mi raccomando Ancora un bel like Passate nel canale Di iscrizione Trovate il canale di Sodin Ci vediamo In un proseguitamento Sarà sempre con il Liverpool E vi lascio sempre i sondaggi Per andare a votare la squadra Di prossimi episodi Quindi al prossimo video Grazie Sodin Ciao signori Bella